Siamo su una splendida Buick del 1937, siamo in piazza San Domenico, il cuore di Francavilla, proseguono sindaco gli eventi di questa estate francavillese da tutto esaurito, ci sarà il Cenacolo Michettiano nel prossimo weekend. Al Cenacolo dei Sapori l'ho sempre definita la manifestazione più bella di Francavilla, quella che apre il cuore, che racconta di un'epoca molto particolare, dove ci fu il progresso al centro di tutto, l'arte e il progresso ci furono. Il progresso, voi pensate si passò dalla mongolfiera all'aereo, fu inventato il cinema, avvenne questo e tanto altro in quell'epoca straordinaria e noi la vogliamo rivivere, la vogliamo rivivere con gli abiti d'epoca, la vogliamo rivivere con il buon cibo locale che verrà gustato in questo paese alto, la vogliamo rivivere facendo appunto riassaporare le sensazioni che vivevano all'epoca Michetti, D'Annunzio, Matilde Serrao, Barbella, tutti coloro che si riunivano nel Cenacolo Michettiano e creavano, ognuno nella loro arte. Ci saranno anche importanti personaggi che ci verranno a fare visita, ci saranno Riccardo Scamarcio, ci sarà Violante Placido. Ogni sera ci sarà un grande personaggio, ci saranno i figuranti, veramente c'è tanto da vivere e da gustare come ormai sanno le migliaia di visitatori che ci vengono a far vista ogni anno. Siamo arrivati alla settima edizione, ogni anno più bella di quella precedente. Riccardo Scamarcio, vincitore del Premio Mumi. Sì, grazie al direttore del Premio Mumi, Davide Cavuti, avremo questa ospite d'eccezione domenica sera, riceverà il Premio Mumi Scamarcio e noi lo aspettiamo qui al Cenacolo dei Sapori.